Posso? Allora, antenne attive? Allora vorrei chiarire una cosa, i DS hanno avuto talmente tanta paura di quello che abbiamo fatto l'8 settembre che innanzitutto ci fanno stilare dalle macchine, che ci fanno mettere fuori dalle transenne senza banchetto per non darci la possibilità di far filmare la gente, il risultato, guardate qua, adesso si sta un po' accalmando perché sta cominciando lo spettacolo, ma prima era pieno così, vuol dire che tutto quello che noi facciamo non passa inosservato, che noi non abbiamo, non hanno la possibilità di mettersi a tacere con le loro squallite motivazioni, con queste modalità banali, noi raccomandiamo comunque firme e facciamo comunque paura. Gli amici di Betagrillo raccolgono le firme per la legge di iniziativa popolare, venite a firmare per un Parlamento pulito, fuori i condannati dal Parlamento, Massimo 2, legislatore nel pristino del voto di preferenza, venite a firmare, gli amici di Betagrillo raccolgono le firme qua.